cari amici oggi puntata speciale capirete presto perché sempre con la camera di paolo rusconi siamo in via stefenson e stavolta non vi portiamo a vedere solamente il degrado il trash eccetera ma veniamo a raccontarvi una storia che c'è vicina la chiameremo la storia il campo di hermes nel frattempo guardate cosa ci accoglie siamo qui a fianco al campo le classiche bottiglie di birra che stavolta si suddividono la posizione 1 e 1 visto che non è una heineken ma moretti stravince sempre insomma questa posticino qui tutto conciato a un sottoponte che è questo che state vedendo adesso che come giustamente facciamo notare ogni volta noi cioè è stato manomesso è stato tagliato chiaramente è tagliato perché tagliato perché perché dentro c'è qualcosa c'è qualcuno che lo utilizza andiamo a vedere cosa c'è dentro vai pure paolo e come buona tradizione anche se abbiamo la chiave del cancello entriamo all'abusiva che ci piace di più eccoci siamo nel sottoponte come potete vedere a fianco a noi passa il treno e la cosa che notiamo subito come sempre in ogni posto di questi qui è che queste zone coperte un po riparate eccetera vengono usate come per noto vi facciamo vedere anche questa situazione ma credetemi non è questo il motivo per cui siamo qui oggi guardate coperte cuscini un telefono con una cuffia rotto spaccato in due e proseguendo vedete ci sono delle cose da mangiare c'è anche addirittura vedo un rasoio quindi qualcuno che si faceva la barba una custodia di cellulare delle salviette lavamani una piastra sono un posto dove si viene a pernotare la moretti immancabile ma perché vi sto parlando di tutte queste cose oggi ecco guardate chi c'è qui con me l'ermes di cui vi parlavo e lui che già conoscete come membro dello staff di city report ciao ermes che ne pensi ritorni dopo quanto tempo qua dopo circa sei mesi neanche tanto tempo però la situazione è cambiata molto in negativo ahimè ecco adesso gli diremo che cosa facevi tu qui perché sennò pensano che per notavi ma non è quello digli cosa facevi qui allora questo qua era era il nostro campetto di handball palla mano americana mio della mia squadra che avevamo trovato per caso visto che era ottimo perché ci potevamo allenare anche d'inverno essendo coperto dal cavalcavia quindi non ci bagnavamo le pareti sono ottime la pavimentazione anche quindi avevamo deciso di prenderci un po cura di questo spazio che ai tempi il cancello era ancora spalancato quindi ci eravamo presi cura del posto l'avevamo pulito avevamo spazzato avevamo portato fuori l'immondizia infatti dico stavo vedendo qua paolo seguici vedo che qua infatti in mezzo a tutta sta schifezza che c'è ora di bottiglie per notti eccetera vedo che c'è ci sono delle seggioline c'è una paletta e una scopa come mai esatto vabbè la paletta e la scopa era la nostra che avevamo portato appunto per tenere il campo il più pulito possibile le due sedie erano per rilassarsi dopo la partita poi abbiamo trovato delle palline dell'handball che erano rimaste ecco spiega come funziona l'handball che magari qualcuno non lo sa beh l'handball è simile allo squash si gioca in squadre da due contro il muro e a mani nude naturalmente e niente questo era lo sport che praticavamo e in che eravate a fare eravamo allora eravamo qua in circa dieci persone dopodiché è venuto a mancare un membro della squadra ci siamo un po allontanati da da questa zona per circa sei mesi avevamo trovato un'altra sistemazione poi non c'era piaciuta siamo tornati qua oggi a distanza di sei mesi che comunque veramente poco tempo ci siamo resi conto che lo spazio è stato occupato è stato è stato reso quello che in questo momento abbiamo visto che è stato forzato è stata tagliata la rete un'altra volta un sacco di fascette appunto per chiudere i buchi per evitare che la domanda che faccio io ecco quando si trova una proprietà come questa questo spazio che non è utilizzato e rischia di portare degrado come vediamo che c'è adesso cioè è possibile che non venga dato in concessione a qualcuno che ai giovani non vengano dati questi spazi potrebbero tenerli puliti non è che li comprano e neanche ne se ne appropriano per l'utilizzo avendoci un utilizzo sicuramente questo campo sarebbe stato messo meglio la mia domanda invece per te questa visto che qualcuno dall'altra parte poi ci verrà dire ma eri abusivo anche tu raccontaci un attimino che cosa è successo qui cioè quello che hai fatto tu per cercare di avere il campo allora beh innanzitutto c'è da dire che il campo l'abbiamo trovato aperto il cancello era aperto quindi non abbiamo forzato nulla e siamo entrati tranquillamente abbiamo comunque ripulito la zona e quant'altro dopo di che abbiamo cercato anche di informarci per sapere se questa zona poteva essere riconosciuta come campo sportivo come campo giovani come come uno spazio appunto per noi giovani e non siamo mai riusciti a capire effettivamente a chi appartenesse la zona se al comune se un privato o a chi altro è niente di nuovo abbiamo trovato solo porte chiuse risposte non abbiamo mai avute e è andata così purtroppo come ci ha raccontato purtroppo in questo campo veniva a giocare anche un suo amico che contaci tu ha fatto esatto fa questo amico ha fatto purtroppo una brutta fine ha avuto un brutto incidente sotto la metropolitana dopo quell'evento la squadra si è un po separata ecco abbiamo appunto per circa sei mesi abbandonato il questo spazio e come abbiamo già detto ci siamo ritrovati oggi a trovarlo in queste pessime condizioni visto che adesso c'è un video ci seguirà un po di gente e soprattutto i nostri contatti politici del municipio del comune e di ogni loco si può fare qualcosa per questa cosa tu hai ancora intenzione di poter utilizzare questo campo intenzione ancora di farci qualcosa certo perché visto come adesso penso che potrebbe essere glielo chiedi direttamente qui qualcuno ti risponde certo assolutamente perché lo spazio per noi è ottimo siamo coperti della pioggia comunque i muri sono ottimi la pavimentazione un po c'è molto da ripulire esatto c'è c'è molto da ripulire siamo anche disposti a rifarlo da zero come abbiamo già fatto più e più volte ecco se il diretto responsabile di questa zona avesse intenzione di darci una risposta appunto se è possibile tenere questo spazio come spazio giovani campo sportivo quant'altro siamo più che disposti a ascoltarlo esatto ok questa è chiaramente quasi il finale di questa puntata che trattava appunto questo tema di questo sport che non molti conoscono se non per averlo visto in qualche film particolare che vi dobbiamo dire sicuramente ci sono stati dei periodi negli ultimi anni con tutti a casa non si poteva uscire eccetera va bene tutto però uno spazio del genere così è sprecato non è che personalmente se avete degli altri progetti non potete portarli avanti ma così è veramente uno spreco niente per ora oggi è tutto vi salutiamo alla prossima city report city report